Buongiorno, la nostra società ha fatto un piccolissimo intervento molto specifico nell'ambito del sottoprogetto che riguardava la transumanza in Sardegna, in particolare concentrando l'attenzione sull'area nord-ovest della Sardegna, cioè i cammini della transumanza che vanno dal Gennargento, i punti di partenza erano sempre nelle zone interne del Gennargento, verso la Nurra, sostanzialmente quindi verso Alghero e la parte di Portoconte che interessava. Quindi è stato un piccolo intervento, il nostro è concentrato sull'analisi della capacità, della sostenibilità di un extra costo sulle caratteristiche ambientali da parte dell'offerta turistica. Devo anche dire che quando noi abbiamo eseguito questa indagine la parte di messa a punto del prodotto non era ancora molto avanzata, anche perché in Sardegna sicuramente la transumanza come fenomeno agropastorale era diffusa a livello dell'intero territorio, ma non c'erano dei cammini così evidenti e così forti come poteva essere in altre regioni d'Italia. E quindi c'è stato un lungo dibattito all'interno del gruppo di lavoro con la regione, eccetera, su quali potevano essere le scelte da fare sugli itinerari da privilegiare. In particolare diciamo che il percorso che va dal Genargento verso le zone che ho detto è un percorso che nella sua interezza è di circa 180 km, quindi è chiaro che poteva essere riservato soltanto a dei tracker di grossa volontà, eccetera, anche perché come dirò adesso se andiamo avanti con le slide... Ah, sono io colpevole. Ecco sì, grazie. Quindi stavo dicendo che era evidente che bisognava anche valutare la capacità e l'attrattività di un percorso nella sua interezza, di questo tipo nella sua interezza. Scusa, devo fare per andare avanti? Per andare quello sotto. Così, eh? Sì. Ecco, i tempi che abbiamo avuto a disposizione erano molto brevi. Ah, è un brannato. Chiedo scusa. Avevamo però di fronte brevi e quindi abbiamo dovuto concentrare, fare un'analisi più di tipo qualitativo che non quantitativo. Inoltre non c'era ancora un prodotto così ben definito da poterlo verificare. Però abbiamo identificato alcune caratteristiche che erano tipiche del tema turismo itinerante, se volete, transumanze, eccetera, in Sardegna. Ed era prima di tutto la capacità di essere attrattivi come regione su proposte di questo genere, sapendo che comunque il turista di questo tipo doveva aggiungere un extra costo, o meglio forse diciamo anche soltanto un extra tempo, in ogni caso legato al tempo per trasferirsi dal continente verso l'isola. E quindi questo era già un elemento penalizzante. In secondo, quindi, le caratteristiche da identificare, oltre alla lunghezza, alla durata del percorso, erano anche legate a questa disponibilità. In più c'era da valutare la capacità di una proposta così specifica e così tematica in assoluto. In effetti noi abbiamo fatto un'indagine qualitativa a distanza, identificando alcuni profili di turisti che ci sembravano più adatti per questo tipo di proposta, segmentando la domanda con un criterio di tipo psicografico sugli stili di vita, abbiamo individuato cinque profili che ci sembravano particolarmente, diciamo, attinenti al tema. Quello del giovane venturoso, cioè di giovani, che poi abbiamo visto che l'aspetto età contava molto poco. È un desiderio soprattutto di fare delle esperienze nuove, delle esperienze diverse, un po' dal solito. Gli appassionati effettivamente di natura, e qui natura e cultura andavano proprio di pari passo. Il camminatore classico, la famiglia, dove l'abbiamo chiamata famiglia colta, ma è la famiglia attenta anche agli aspetti culturali, agli aspetti storici, archeologici, eccetera. E le persone più interessate agli aspetti più interessanti, del tipo enogastronomico, eccetera. Quindi che privilegiavano questo tipo di cose rispetto al camminare. Il tema, non entro nel dettaglio perché non credo valga la pena, molte cose, il punto fondamentale su quale credo sia interessante fare la riflessione è che per proposte di questo tipo bisogna sempre capire se l'obiettivo del nostro turista è quello di camminare esclusivamente oppure fare o vedere qualche cosa. Questa combinazione di fattori che è sempre importante che ci sia in realtà però diventa determinante dal punto di vista delle scelte perché se la priorità è il camminare è chiaro che tutte le divagazioni, le variazioni sul tema, che potrebbero essere da fermarsi a fare una visita in un parco ambientale oppure fermarsi a visitare un nuraghe o fare una sosta in una cascina che abbia un museo di tipo contadino, eccetera, sono complementari nella misura in cui non alterano l'aggiungimento dell'obiettivo principale che è camminare. Se invece è il fare, vedere qualche cosa, esattamente le cose si ribaltano. I risultati della nostra indagine, visto che i tempi sono strettissimi io sono imbucato un po' all'ultimo minuto, ve li sommarizzo in due cose. Primo di tutto abbiamo verificato che l'extracosto del viaggio per arrivare sull'isola rispetto a scelte di tipo continentale non era assolutamente determinante. se si combinava il percorso sui sentieri della transumanza con un'attività di tipo turistico, di tipo più tradizionale, tipo persone che stanno al mare che potevano aggiungere qualche giorno per fare il percorso. La seconda considerazione sicuramente importante che è immersa è che immaginare un percorso intenso modello dei sentieri classici non aveva molta presa, doveva essere forse più facilmente immaginato delle segmentazioni del percorso che permettessero degli itinerari da due, tre giorni al massimo. D'altra parte mi sembrano anche in linea con le indicazioni che sono emerse dalle indagini più generali, eccetera. L'extracosto, diciamo, per il valore aggiunto ambientale, culturale, eccetera, certamente era previsto e non è stato, non è un elemento determinante. E quindi abbiamo avuto anche delle risposte che pur differenziandosi da segmento a segmento comunque confermano la potenzialità di questo tipo di proposte, purché, come conferma di quello che è anche stato detto dall'intervento precedente, l'offerta sia configurata in termini molto precisi, molto organizzati e molto attrattivi. Grazie. Grazie mille al dottor Rovira per l'interessante presentazione.